Passerei invece a Friuli Intagli, giusto? Carlo Cassetta, voi siete un gruppo specializzato nella componentistica per mobili e mobili in kit, tra i leader mondiali, siete a Villanova nel comune di Prada di Pordenone, anche lì un po' a Villanova di Prada, chiedo scusa, 2000 dipendenti, insomma siete anche voi una bella realtà, ci può spiegare esattamente che cosa fate la vostra attività? Sì, noi realizziamo un prodotto abbastanza povero, un'antina, quel componente che voi quando andate in negozio tipo Ikea vi portate a casa e vi montate il mobile, quindi che ci azzecca con la tecnologia, ci azzecca molto perché siamo un'azienda a forte vocazione manufattoriera, il 92% della nostra forza lavoro di quei 2000 dipendenti è in fabbrica, colletto blu, lavoriamo 4 turni 7 su 7 e per darvi un'idea delle dimensioni abbiamo nel 2017 fatturato 502 milioni e ci aspettiamo una crescita del 15% quest'anno, nel 2017 abbiamo realizzato su una varietà di 30.000 item 900.000 pezzi prodotti, 900.000 pezzi prodotti, più o meno al giorno da noi escono fra i 110 e i 140 automezzi di prodotto finito verso tutto il mondo, per dire l'armadio PAX di Ikea è prodotto da noi in tutta la scocca, nelle antine, nei componenti diciamo di più poveri tra virgolette. Quali sono le sfide che abbiamo come realtà produttiva del nord est? La sfida che abbiamo è che ci dobbiamo confrontare nei confronti dei nostri clienti che sono tutti big player, da Walmart a Ikea, Castorama, B&Q, ci dobbiamo confrontare con realtà produttive dove la forza lavoro costa molto meno che in Italia. E ce lo dicono i nostri clienti, Ikea ci dice ma voi mi costate il 20% in più degli altri perché devo venire a comprare da noi? Però continuo a venire a comprare da noi perché noi alla fine garantiamo quella qualità in più che quando smontate a casa la scatola non la riportate indietro al negozio, per cui il valore aggiunto di questa parte qui italiana ancora viene riconosciuta per fortuna. Però il tema è che loro stanno comunque realizzando fabbriche nell'est, stanno andando avanti anche Ikea stessa si sta ponendo come obiettivo di realizzare fabbriche che hanno una qualità più alta, quindi se noi rimaniamo fermi rimaniamo fuori mercato, tendenzialmente il problema è la sfida, ho anticipato un po' la domanda che abbiamo e per cui ci stiamo affacciati alla tecnologia quando abbiamo colto l'opportunità doppia, un nuovo plan produttivo e la legge di stabilità del ministro Calenda che ha offerto la parte di Insta64, abbiamo mixato queste componenti e abbiamo detto proviamo a pensare a fare, a costruire una struttura che faccia da backbone, da spina dorsale digitale, su macchinari, pensate che in tutta l'azienda abbiamo 150 linee produttive per realizzare quello che vi ho detto prima, su macchinari di questo plant che sono linee produttive fatte da macchine di produttori diversi, di nazioni diverse assemblate per noi in una linea produttiva in modo da raccogliere digitalmente i dati che queste macchine producono, quindi banalmente al posto di far digitare all'operatore che è uscito una catasta da 100 pezzi, lo intercettiamo dalla macchina, bene, dopo quella catasta la prendiamo perché è uscita e quindi è stata dichiarata valida con uno shuttle, siccome questa qui è una linea che deve alimentarne un altro, la shuttle la prende in carico e la porta su un'altra linea e a sua volta poi viene presa in carico, lavorata e così via. Tutto questo viene svolto da tre reparti che sono stati tutti interconnessi perché noi abbiamo letto l'Industry 4 in tema, la sfida numero uno era interconnessione, quindi catturiamo dati sì, ma li rimandiamo velocemente in fabbrica per governare gli shuttle, per proporre la ricetta produttiva nei macchinari e anche per dare una mano agli operatori sempre di più nella causalizzazione delle inefficienze al posto di lasciare l'operatore con la calcolatrice che tornava indietro nel tempo dopo aver sistemato il guasto nella linea e dichiarava col terminalino la causa dello scarto, dell'inefficienza eccetera, avendo cablato i singoli pezzi di linea noi siamo in grado di dire guarda che probabilmente la causa di quel fermo è stato causato da quella componente di linea e quindi associata a quella componente di linea lui può causalizzare con una set di causali filtrato la causa che secondo lui è stata ma soprattutto registriamo il tempo esatto in cui è occorso e il tempo esatto in cui la linea è ripartita quindi non serve più che lui faccia i calcoli con la calcolatrice e dichiari la velocità rallentata non dichiarato a tappo come si faceva prima ma rileviamo la velocità effettiva su ogni singolo pezzo che transita nella linea produttiva e questo è un dato molto importante e molte volte sottovalutato cioè la tempestività e la qualità del dato rilevato fa poi prendere scelte di investimento e di miglioramento nettamente migliori perché potrei sbagliare e migliorare un pezzo di macchina che in realtà era mascherato da altri gap più a valle o più a monte quindi prima intervengo sui colli di bottiglia e più certo sono di quali sono meglio utilizzo le risorse diciamo che questa è stata la sfida che abbiamo letto all'inizio per cui abbiamo fatto uno screening noi veniamo da un ERP Microsoft per cui abbiamo sentito anche Microsoft abbiamo sentito quali erano le aziende che potevano proporci questa soluzione perché non era che la compravamo al supermercato Beantec ci ha proposto un expertise che ci ha molto soddisfatto in termini di proposta e successiva implementazione o struttura dell'implementazione perché nel frattempo siamo anche dotati di uno staff interno ICT che segue la parte ECMI e PLC fatto da due persone diciamo che abbiamo costruito una black box hardware software che è basata su tecnologia Bekoff e Microsoft Microsoft IoT e questa black box ci consente con una spesa abbastanza bassa di digitalizzare una linea produttiva nel nuovo plant ma anche in plant esistenti quindi noi la tecnologia che abbiamo appena sviluppato possiamo così dire che è in beta adesso in beta però è già attiva muove già le navette però perché è in beta? perché una volta che viene calata ti propone lei stessa e ti spinge lei stessa a integrare dei pezzettini aggiuntivi però è anche in beta perché nel frattempo in cui la mostriamo agli utenti loro migliorano le interfacce utenti con metodologia agile e noi costruiamo un set di strumenti ideale da poter calare negli altri 150 linee produttive delle affluentali alcune delle quali come giustamente osservato prima non verranno cambiate nei prossimi anni perché sono state magari acquistate l'anno scorso o due anni fa per cui hanno una vita davanti ancora piuttosto lunga davanti ecco quello che per noi è stata la sfida e quello che possiamo dire che oggi abbiamo già ricevuto indietro abbiamo già ricevuto indietro che misurato su un reparto abbiamo risparmiato tutto il tempo di imputazione manuale del dato e abbiamo guadagnato in qualità del dato stesso questo è quello che ci ha restituito ad oggi e anche per voi quali sono i prossimi passi? qual è la prospettiva? la prospettiva futura è sicuramente sfruttare la piattaforma Edge che abbiamo realizzato in cui abbiamo copiato la tecnologia cloud l'abbiamo riversata Edge perché come giustamente si faceva riferimento prima non aspetto il cloud per farmi dire dove portare la catasta alla prossima linea lo so io dove portarla gli mando io l'impulso alla posizione corretta e sfruttare però i dati raccolti in modo da poter trasmetterli in una piattaforma che ha capacità di calcolo infinita e che quando ci serve ce la dà indietro e possiamo sfruttare tecnologia di machine learning per raffinare determinati algoritmi questo è uno dei filoni che vediamo possibili basati però sul backbone che stiamo costruendo perché altrimenti sarebbe irrealizzabile nel fattispecie stiamo costruendo un altro pilota con Beantec dedicato a fare dei controlli in linea mentre il pezzo passa per intercettare da subito eventuali problemi per esempio sulle forature dell'anta magari si è rotta una punta magari l'operatore ha sbagliato a settarla oggi ci succede succede nei turni di notte molte volte buttiamo via 5.000-6.000 ante perché dal momento in cui ti accorgi dell'errore al momento in cui era partita la produzione sono passate via con la velocità della linea 5.000 ante per cui accorgersene prima ha un impatto importantissimo di riduzione degli scarti che ci riconduce a quello che chiedono i nostri clienti perché chiedono tecnologie sempre più green e sempre più efficienti per cui mettere in campo queste tecnologie oggi in Italia ti consente anche a livello internazionale di poter dire guarda io ci sono io rispetto i tuoi standard di qualità e gli elevati standard etici che tu richiedi a un'azienda un altro aspetto è la manutenzione le tecnologie Microsoft consentono praticamente a costo abbastanza basso di rivoluzionare le squadre di manutenzioni che noi abbiamo 150 impianti potete immaginare circa una trentina di persone che abbiamo per fare in modo che diciamo rivoluzionare un po' il modo di lavorare concentrarsi sulla tipologia centrale operativa un po' quella degli uffici ICT in cui da remoto controlliamo le postazioni dextro dei pc con un HoloLens di linea di reparto un operatore che lo indossa può ricevere istruzioni da una centrale operativa più esperta e andare direttamente al cuore del problema o scalare il produttore della macchina così facendo si dimezzano i tempi di ripristino della linea e i tempi di ripristino per noi sono costi altissimi misurabili e con questi progetti pilota velocemente con tecnologie già pronte probabilmente si riescono secondo me ad abbattere velocemente tutto questo avrà un grosso impatto sull'organigramma aziendale sulle persone e sugli addetti che dovranno cominciare a pensare in modo diverso